E finalmente una buona notizia! E finalmente Toti si è dimesso! E questo mostra ancora una volta di più che doveva dimettersi già da tanto tempo perché se uno così marcio si dimette vuol dire che sa che non c'erano alternative perché uno che si cura al 100% della sua legittima posizione non si dimetterebbe e andrebbe fino in fondo e farebbe vedere ho avuto ragione, invece se si dimette, cosa che auspicavamo da tempo se lo fa solo adesso è perché non c'era nessuna possibilità stanno uscendo troppi casini Votate la Meloni e i suoi seguaci, eh! Ora aspetto la Santa Decche! La Santa Decche!